Uomini e donne anticipazioni nuove puntate, smaschera Riccardo con una segnalazione. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che saranno trasmesse durante il mese di febbraio. Raccontano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere, nel corso delle riprese del talk show avvenute il 28 gennaio, verrà smascherato dalla Dama Gloria. La quale ha portato alla luce una segnalazione arrivata sul conto di Guarnieri. Spazio anche alle vicende di Roberta, che nel corso delle prossime puntate avrà modo di conoscere due nuovi cavalieri. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, che saranno trasmesse durante il mese di febbraio. Rivelano che Riccardo verrà smascherato in studio da Gloria. La Dama racconterà di aver ricevuto delle segnalazioni sul conto del Cavaliere, le sono arrivate le foto di alcune conversazioni che Riccardo avrebbe avuto in questi giorni con una ragazza 21enne. Gloria non ha affatto gradito questa cosa e a quel punto Riccardo farà chiarezza e su queste segnalazioni. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Riccardo prenderà il suo cellulare e mostrerà al pubblico le conversazioni avute con questa ragazza. Dimostrando che non ci sarebbe stato nulla di male tra di loro. Sta di fatto che alla fine di questo confronto i due metteranno la parola fine al loro rapporto. Come se non bastasse, Riccardo scoprirà che Ida vorrebbe avere un confronto con lui, la dama siciliana non ha gradito le dichiarazioni rilasciate dal suo ex nell'ultima intervista al magazine di Uedì. Come andrà a finire? Guarnieri accetterà di parlare con Ida Platano e il suo nuovo fidanzato Alessandro. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne del mese di febbraio 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Roberta di Padua. La dama avrà la possibilità di conoscere due nuovi pretendenti in studio, a quanto pare entrambi riusciranno a conquistare l'attenzione di Roberta. Al punto che deciderà di tenerli entrambi in studio e conoscerli meglio al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi. Biaggio, invece, si ritroverà a prendere una decisione finale in merito al suo rapporto con Carla, nonostante la frequentazione che va avanti ormai da diverse settimane. Il cavaliere napoletano ha deciso di truncare la frequentazione, perché sostiene di essere alla ricerca di una donna dai modi di fare più pacati e tranquilli. I am dus cu rap-ul decà mai toti ziceau că muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simt să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele dante printre talea culte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine, pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul.